. 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 merda mi ha spaccato pure la canna compa come ti ha spaccato la canna dietro il suo pezzo di manico no? era nel portacanna in verticale aver detto la potenza di sta canna bella mi ha spaccato la canna compadre mi ha spaccato la canna era in verticale l'avevo appena posato si che è pure l'altra cazzo lì pure l'altra vieni qua recupera recupera questa vai recupera ma che cazzo è dove siamo finiti dove siamo finiti che cos'è paura e delirio aiuto oh impressionante va staccato la canna sentanata questa sentanata aspetta che risalga un po' aspetta aspetta tendice tendice mamma mia non pare mi ha spaccato la canna aspetta tendice mamma mia risali con lei con la coppia passa prima prima l'interno della cazzo non era tutta chiusa capito risali con il motorino affanculo perché stavamo non è grossi posso calare io nel mezzo giusto? certo ma è il surf casting ah l'ho capito per evitarmi no non si capisce non lo capisco perché non tira più quasi un sacco da spazzatura ma allora è san piedi ma san piedi ma san piedi mi pare pesante questo san piedi e le puche qua vediamo non lo dico siamo san piedi cerni cerni ma l'ho dato all'inizio ma cerni otto cerni otto ma cerni otto ma cerni otto non è insomma cerni otto arrivati a dire ma non è male direi ecco l'altro la mia se non di più cosa bella bravo calavaro hai detto che vuoi andare su youtube ma hai detto lo sanno tutti che hai arroccato nonchia sei un coglione non ho frizione hai arroccato hai arroccato e questa è più grande hai arroccato ma veramente vai a chiana tipo palloncino proprio attenzione attenzione va pompa perchè ti devi tipo arga per mantenere attenzione quella sarà da sola ma solo sto gai da solo sto cerni otto dotto ma anche cerni otto sta un po' sta un po' squadra fish contro squadra squadra fish contro squadra la canna monca sta facendo miracoli che ti ho detto tu per giocato il telefono io ti prendo il pesce aspetta che la faccia a sommare perché comunque te la gestisci tu perché io sto pescando a mia altura ma per gli si mette la canna e ho portato la canna e ho rotto la canna tu te la gestisci tu perché io sto pescando ma che c'entra io rischia di gestire il tuo come se stai come gestire l'estate continua quindi non è cernia sembra tipo braio non lo capisco sì anche per me con cosa sei? con il calamaro che vino c'è il calamaro sembra tipo braio sembra tipo braio sembra un braio ora vediamo non è un braio sembra un caos che quello che tira è da un nonno faccio c'è il braio di quello il giugio braio guardate bene aspetta che gli voglio far stazione di parolaccia bello bello come tira il braio manco il dentice mi dispiace apri il glu ci diamo per non fare soffrire il pesce non 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 Sì, apro l'ulto, apro l'ulto, se ti vede ne pish.